buona nuova giornata di studio ecco a proposito di nuova giornata di studio oggi lo rivedremo non solo nel tanya ma anche nella yom yom l'importanza appunto dello studio della torà e oggi il tanya poi si sono fermerà anche sul sul attuare di mizvot però poi vedremo ieri anche abbiamo visto no di studiare ogni giorno l'importanza ok allora tutte ragazze 19 siamo al tanya siamo al sempre capitolo 35 dopo la parentesi cioè l'asterisco la parentesi e riprendiamo dall'asterisco allora cosa ci dice oggi il padatania ci spiega che quando una persona si occupa di torà o secbe torà la sua neshamah che è la sua anima divina cioè qui quando parliamo di neshamah appunto ci si riferisce a la all'anima divina però nel preciso le sue due vesti interne vesti interne si riferisce la facoltà della parola e del pensiero allora quando appunto uno si occupa di torà tramite queste due vesti interne viene assorbita dalla luce divina dell'ensof e si unisce ad hashem in un'unione perfetta e questo è il significato di del dimorare della china ma quando si parla della china che dimora nell'anima divina dell'uomo come i nostri camim hanno affermato nel il cavot capitolo 3 pasuk 6 anche se una sola persona si occupa di torà con diligenza la china è con lei cioè sappiamo il concetto di di minyan di dieci uomini però sempre nel versata voti dice anche a dieci che studia ashina shorabene e fin arrivare ad una sola persona cioè anche se tu da solo ti metti e studi torati concentri già hai la facoltà o leggiamo merito e la possibilità di avere questa asharata china questo dimorare della china in te vediamolo sul testo quindi quando si chiudere ad un uomo 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 si Tuttavia, per attirare la luce e lo splendore di questa Shekinah, anche sul proprio corpo, dunque non solo sulla facoltà del pensiero e della parola, dunque che sono, abbiamo detto, le due vesti più interne, ma anche su tutto il corpo e non solo sul corpo, ma attenzione ancora di più, sulla propria anima animale, che è lo spirito vitale, che si veste del corpo fisico, come sappiamo, come si fa? Allora, abbiamo detto, quando uno si occupa di Torah, allora le vesti interne vengono rivestite da questa Shekinah, dunque la Shekinah può dimorare in esse, però cosa bisogna fare perché si rivestano in tutto il corpo e non solo in queste due vesti intime? L'uomo deve adempiere ai precetti, di fatto attuare le mitzvot, che si compiono appunto con l'attività del corpo. Com'è che noi attuiamo le mitzvot? Se da qua usiamo la mano, tutte le mitzvot che dobbiamo attuare sono tramite il corpo. Dunque, infatti, proprio l'energia del corpo stesso, energia che è impegnata in questa azione, viene assorbita dalla luce divina e dalla sua volontà, quella suprema di Hashem, ed è unita a lui in un'unione perfetta. Eccuia punto? Dunque, se riferisce alla terza veste dell'anima divina, abbiamo parlato delle prime due, quelle interne, facoltà della parola e del pensiero, adesso arriviamo alla terza veste dell'anima divina. Allora, in tale modo, anche l'energia dell'anima vitale, l'anima animale, che vi ho detto che è l'anima vitale, che alberga nel proprio corpo, è originata dalla Kripat Nova, come l'abbiamo studiato, viene trasformato da cattiva in buona, questa Kripat Nova, tramite le mitzvot. E si integra effettivamente con la Kedusha, con la santità, proprio allo stesso modo dell'anima divina. Poiché essa, dunque, riferendoci all'anima vitale, che ha eseguito e portato a termine l'atto prescritto del precetto, cioè, grazie a... Di fatto, batachlis, come direbbero gli israeli, chi è che attua la mitzvah? L'anima divina o l'anima vitale? Di fatto è l'anima vitale, cioè il corpo. Allora, vediamolo un attimo sul testo, riprendiamo. E sono anche il corpo, il corpo dell'anima VPN che arrivegger dentro di quello che sia un pronto. D' saludabile il gibto un poch, hone e chi portare l'anima vitale, che era la mitzvah, dunque è la Kicesì integrata nella Kidusha, nella santità. E senza di essa, dunque senza l'anima vitale animale, l'anima divina non avrebbe potuto agire affatto sul corpo. Se è riuscita a agire sul corpo è solo grazie all'anima vitale. Perché l'anima divina è appunto spirituale, mentre il corpo è materiale e grossolano. Cos'è che funge da intermediario tra l'anima divina e l'anima vitale? È il corpo. Dunque la nefe, l'anima vitale. Dunque che si riveste nel sangue dell'uomo. Sappiamo che l'anima fisicamente, tra virgolette, dove si trova nell'uomo, nell'essere, nel sangue. Ciao Rossella, Brukaba, ecco Firenze, è arrivata. Che è nel cuore e in tutto il corpo. Nefe, c'è in un'intervambiente, ma dov'è c'è per la madame, c'è per il bove, c'ho la guf. Dunque, quando uno si occupa della Torah, benissimo, si rivestono le due parti intime, ok? Che sono la facoltà di parola e di pensione. Ma come fare perché la Shina possa posarsi di morare e integrarsi in esso, cioè nella persona? Quello, assolutamente, le mitzvot masiot. Mitzvot masiot, che si fanno tramite il corpo, si attuano tramite il corpo e dunque fanno da tramite. E senza il corpo le mitzvot di fatto non sarebbero potute essere eseguite. E dunque, ecco come si può integrare anche la Nefesh Chionit Bahamit nella Kedusha e nella Santità. Detto in sintesi. Passiamo a Humash. Allora, siamo Parashat, chi ti sa. Revì, capitolo 33, Pasuk 17. Pagina del nostro Fumash 381. Quarta chiamata. Allora, ieri abbiamo parlato della richiesta di Moshe di conoscere le vie di Hashem e oggi passiamo alla gloria divina che si rivela finalmente a Moshe. Hashem disse a Moshe, siccome hai trovato favore ai miei occhi e ti ho distinto per nome, cioè per importanza, ti ho prescelto, io a Shem farò anche questa cosa che tu hai detto. E non, come dice adesso Rashi, lo vediamo, non residerò presso le altre razioni, ma solo presso di voi. 17, Rashi, pagina 381 in fondo. Allora, anche ciò che mi hai richiesto, come ce lo spiega Rashi, ci dice semplicemente che esaudirò la tua richiesta che non si posi più la mia schiena presso le altre viventi, come ne abbiamo appena visto. Infatti, le parole pronunciate da Bil'am non furono espresse per ispirazione divina, ma prostratto e con gli occhi aperti. Allora, cosa chiede Moshe? Voglio che la Ashrat, la schiena di cui abbiamo appena parlato nell'Italia, la dimora della Shefinah, sia solo sul popolo ebraico. Questa è una richiesta personale di Moshe. E Hashem dice, ok, esaudisco la tua richiesta. Però un attimo. E allora Bil'am, che era un aviglio, sappiamo che era un profeta, ha parlato con Hashem. E allora, come si può capire, visto che Hashem ha promesso questa cosa che sì, si è rivelato a Bil'am, allora qui, secondo i numeri 24-4, si intende che Bil'am era caduto in un torpore in cui i suoi occhi, rimasti aperti, videro ciò che li rilieva a Shef. Cioè, in una condizione analiga descritta negli off, una parola mi fu detta di sfuggita. E i profeti pagani, appunto, avevano l'abitudine di ascoltare il messaggio divino attraverso un medium. Dunque, non assolutamente nello stesso modo in cui i Bnei Srae, Moshe non ne parliamo, ma anche gli altri Nevi'im, ricevevano questa Asherata Shefinah. Dunque, tramite un medium, non direttamente, tutto in un altro modo, e non è il concetto di Asherata Shefinah, del dimorare della Shefinah. È una rivelazione, ma che non ha niente a che fare col dimorare della Shefinah, della presenza divina. Ok? Cioè, che sia chiaro. 18, Khayamushka. Vedendo che la sua richiesta era stata accolta, Moshe disse, ti prego, mostrami anche la tua gloria. Leggi anche il Pasuk, che sono poche parole. L'Eterno. No, no, in ebraico. Veim. Vaio Mar. Vaio Mar. Vaio Mar. Mi blocco, abbi pazienza. Mi blocco. Non mi stressare. Ho detto, scopo poche parole, ho detto provare. No, 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 non mi stresso, però se sono registrate, magari riesco a rilassare. Eh, lo so, lo so, lo so. Mette in soggezione, lo so, lo so. Non ti preoccupate. Non mi preoccupate. Vaio Mar. Eni na et vodeha. Dunque, fammi vedere la tua gloria. Cosa ci dice Rashi? Moshe si accorse che era un momento di grazia e di gradimento, per cui le sue parole erano ben accolte. Allora insistette nel chiedere ad Hashem che dimostrasse la sua gloria. Cioè, era un momento propenso. Vaio Mar. Arreni na et vodeha. Ram. Moshe. Saya etra zon. Questo concetto di etra zon. Udvaram mi kubanin. Leosifrish ole arotomar ik vodoh. Diciannove, Rachel. Hashem disse, Io acconsento a far passare tutta la mia bontà dinanzi a te e per mostrarti come implorare la mia misericordia proclamerò alla tua presenza in nome Hashem. Io comunque farò grazia solo quando vorrò far grazia e avrò misericordia solo quando vorrò aver misericordia. Forte questa. Allora, vediamo Rashi, diciannove. Farò passare dinanzi a te. Tutta la mia bontà, no? Dice Pasuk. Allora, è giunto il momento in cui tu puoi vedere della mia gloria quello che ti consentirò di vedere. Perché io, Hashem, voglio e debbo insegnarti un formulario di preghiera. Quando hai bisogno di implorare, dice Hashem a Moshe, la mia misericordia per Israele, ricorda a me i meriti dei loro padri. Perché come ben sai, dice Hashem, se sono esauriti i meriti dei patriarchi, avrà mitzachiacò, non c'è più speranza. Io dunque farò passare tutta la mia bontà dinanzi a te mentre tu ti truvi nel gru. Allora, vai dire, ania oguir v'gomer, hai ghiasha, shetirai v'vodi, ma shetirai v'vodi. Arshè otcha l'irà. L'epishe ne roce, t'cerriche l'anamandcha seder t'fil. Chekse nizrachta l'abbacce rachamimam in Yisrael, izskertaliz khotavut, Quindi Allora, tu puoi iniziare, come abbiamo detto, che se per implorare, la mia misericordia, dice Hashem, se i meriti dei padri sono esauriti, non c'è più speranza. In realtà, dice Hashem, non è così. Io, dice Hashem, per insegnarti la formula per implorare misericordia, cioè ti insegno questa formula anche nel caso in cui fossero esauriti i meriti dei patriarchi e nella stessa maniera in cui tu mi vedi avvolto nel tallet, allora, secondo Massachet Rosh Hashanah, 17.000, e secondo il Midrash, qui Hashem avrebbe indicato a Moshe come doveva pregare l'orante e ha visto Hashem avvolto con questo tallente e, dice, dovrai proclamare i tredici attributi divini. Vediamo di ricordarci un attimo i tredici attributi. Uno, il Signore Hashem. Due, l'Eterno. Tre, Dio. Quattro, pietoso. Cinque, misericordioso. Sei, longanime. Sette, che abbonda in benevolezza. Sette, che abbonda in verità. Nove, che conserva il suo favore, sino alla millesima generazione. Dieci, che perdona il peccato. Undici, che perdona la colpa. Dodici, che perdona la ribellione. E tredici, che assolve. Questi sono i tredici attributi in italiano. Eserciterò misericordia su cui, su colui che avrò misericordia. Tutte le volte che io vorrò esercitarla. Dunque, quando è che eserciterò di Hashem la misericordia? Tutte le volte che sarà mia volontà di farlo. Vericanti, e avrò pietà, accorderò grazia, anche qui, quando vorrò accordarla. Fino ad ora, non gli ha promesso che talvolta ascolterà e talvolta no. Ma nel momento in cui ricorderete i miei attributi, Hashem disse, ecco, io faccio un patto. Esodo 34, 10, fra poco lo vedremo. Cioè, Hashem di promese che con l'invocazione dei tredici attributi durante l'attefilla, essi non sarebbero andati delusi e sarebbero stati esauriti. Abbiamo, ragazze, la formula magica per farci ascoltare da Hashem. Vericanti, accech potzlerachem. Ad khan lo iftichò, ela ittim ene, vittim lo ene. Aval, bish'at ma'assee, emmerlo, hine anochi corret brì. Iftichò, shenam chosrot rekan. Venti, roni. E disse, c'ho un malgrado, non ti permetterò di vedere il mio volto, perché nessun uomo è in grado di guardarmi e continuare a vivere. Famoso, famosissimo pasuk, ragazze. Vajomer lo, vajomer lo tu khalirot penai, ki lo ir ani ha adam vachai. Cercate di memorizzare. Ki lo ir ani ha adam vachai. Perché nessun uomo può venermi mentre è in vita. Cioè, nessun essere vivente può rendersi conto della mia e senza, come lo studiamo bene nel Tanya. Venti, non potrai vedere. Quando anche farò pazzare davanti a me tutta la mia bontà, io non consentirò di vedere il mio volto. Afshah vir kol tu vial panekha, eni no tenekha reshut kirot ten panai. Cioè, Moshe un po' voleva approfittare, dice questo è un momento propenso. Approfittiamo un po', vediamo di chiedere ad Asshel, no? Di vedere il suo volto. Non è che Asshel è un volto, mi direte, ma per quello che si può, diciamo, definire come tale. E per noi umani, non perché Asshel abbia un volto. Dice no, Asshel. Questo, su questo non c'è sicui, come si dice, non c'è chance perché nessun essere vivente può vedermi. 21. 21. 21. Vai, vai ancora un uovone. Dice no dice, ecco, questo di me vi è un posto adattato a te, protetto dalla montagna. Tu stavi sulla rupe. Ok, allora. Va yom e radonai yin e makom iti veni zafta la zur. Yin e makom iti, dunque è che un luogo presso di me. Resta sopra la roccia, le dice, ok? Allora, dove si trova? Sul monte dove io parlerò sempre con te, c'è un posto preparato per quando hai necessità di parlarmi. E che io ho predisposto senza che tu subisca alcun danno e da cui potrai vedere tutto quello che ti sarà consentito di vedere. Dunque, abbiamo qui un punto interessantissimo, molto forte. Noi stiamo parlando di Moshe Raveni, Moshe, 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 come un angelo, 40 giorni, 40 notti, sale nel cielo, non mangia, non beve, parla con Hashem, teta teta, panima panima, non vuol dire che ha visto il suo viso, ma per quanto si può parlare di teta teta, Moshe è arrivato al massimo livello che si possa arrivare, che un essere umano possa arrivare per quanto riguarda la vicinanza a Kadosh Baruch. Ma malgrado tutto c'è la volontà di Hashem e solo quando Hashem consente la misericordia di potergli parlare, di vederlo, così sarà. Questa è l'interpretazione piana del testo, no? C'è però una spiegazione midrashica che si riferisce al posto, cioè quale posto accenna il testo che tratta del luogo da dove Hashem gli parla. Non è scritto io sono in un luogo perché Hashem, e qui l'abbiamo visto e studiato nel Tanya, è il luogo del mondo e non è il luogo il suo mondo. Cioè Hashem comprende l'universo e non viceversa. Punto fortissimo questo. Questa è un luogo, Concludo i due ultimi. Quando la mia gloria passerà davanti a te, io ti metterò in una fenditura della roccia e porrò la mia mano su di te per proteggerti finché io non sia passato. Dunque 22, vediamo cosa ci dice Rashi. Quando passerà la mia gloria, quando sarò passato dinanzi a te. Nella cavità della roccia, allora l'espressione tradotta con cavità è analoga al senso che hanno i verbi di questi esempi della scrittura. Come per esempio in numeri 16-14, vorresti forse acceccare, cioè rendere cavi di occhi di questa gente? E come in proverbi 30-17, l'occhio lo caveranno i corvi del torrente. E stessa espressione anche lo ritroviamo nei mlahim, nei re, mlahimbet, re 2. Io ho scavato e bevuto delle acque scraniere. Questi verbi hanno infatti la stessa radice. Oggi abbiamo approfittato per fare anche la grammatica. Molto famoso perché questo passato. E creò una orve nachal, mi scherè, mi scherè, mi scherè, mi scherè, vichatì vichatì timai, ishayao, emlachim, vichatì, gizra achat làn. Nicrat hazzur, cavità della roccia, cioè qualcosa che ha scavato nella roccia, criat hazzur. Vesakotihapì e coprirò con la mia mano. Da qui deduciamo che fu consentito a chi lo avesse voluto di fare del male. Per questo io devo difenderti. Il Targum invece traduce io ti proteggerò con la mia parola. Qui usato un rispettoso antropoformismo verso Hashem. Non si deve intendere che Hashem abbia bisogno di proteggere proprio con la mano. Ok? Dunque, Vesakotihapìbikhan shenitare shutla mechablim mechabè. L'abbiamo visto purtroppo questo concetto che Hashem consente alle forze del male, di fare del male. L'abbiamo visto in diversi, diciamo, episodi della storia del mondo, da quando Hashem l'ha creato. E quando appunto col Satan, poi Aaron che ha cessato la piaga, perché quando incominciava a colpire, colpeva tutti indistintivamente. Dunque, c'è questa cosa, questo concetto che Hashem ha creato queste forze che sono opposte alle forze del bene e che hanno, diciamo, una loro forza. E Hashem consente loro, tra virgolette, di fare del male in determinate situazioni, quando appunto il popolo pecca, si allontana da Hashem, tradisce Hashem e così via. E allora si dà spazio e forza alle forze opposte del bene. Perché non c'è mai un spazio vacante. Cioè, come nel pensiero, così nella vita. Cioè, o uno fa del bene, dunque è preso dal bene, avvolto dal bene e ispirato dal bene. O una persona si allontana dal bene, dunque si attacca al male. E allora tutto quello che è legato al male, dunque anche l'origine del male, le forze del Satan, e gli ha detto, hanno il sopravvento. Ok? 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 ั้ими qualcosa che è dietro di me. Mentre non è concesso vedere il mio volto. Di nuovo, vedete? Retroviamo il concetto di divieto, diciamo. Più che divieto è una cosa che non è fattibile. io ritirerò la mia mano nel senso ritirerò la guida della mia gloria quando io allontanerò la guida della mia gloria davanti a te per muoverti da quel posto che cosa dimostra qui il Kadosh Baruch Hu famosissimo Rashi riportato dal Masechet Brachot dimostrò il nodo dei tefilin legati alla nuca sapete che qui c'è il tefilin e proprio sulla nuca in mezzo c'è il nodo dunque è quello che Ashen mi ha permesso di vedere dunque non il volto ma la nuca è più precisamente il nodo del tefilin voilà oggi che godure vi ho fatto tutto nel dettaglio non abbiamo dovuto saltare niente ci sta, ci sta ok, andiamo per il tefilin ragazze eccoci qua 19 siamo al Sefer Revi'i Yom Khamishi Tzadik 90 e eccoci qua allora abbiamo bellissimi anche questi tefilin io da anni che tutti i giorni a parte quelli che faccio sempre con voi ne faccio una decina in più e tra quelli c'è il Tzadik Bet e Tzadik Pin che adesso ci arriviamo allora Elisheva dov'è? Ando sta? ci sei? ci sei? Elisheva leggici ne approfittiamo leggiamo anche oggi un po' in italiano vai faccio uno alla volta? sì sì perché perché è così quando fai uno alla volta dopo che l'hai letto e lo leggiamo in ebraico si ha più facilità di capirlo in ebraico ok? questo 90 90 sì Tzadik preghiera di Moshe uomo di Dio tu sei stato un riparo per noi in tutte le generazioni prima che nascessero i monti e prima che tu avessi formato l'universo e la terra abitata dal più remoto passato fino al più lontano futuro tu sei Dio tu riduci alla polvere l'orgoglio dell'uomo e poi dici pensitevi o figli di Adam poiché anche mille anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è già passato o come una vigilia della notte ki elef shanim be'enecha ki yom etmol ki yavor ve'ashmura balaila tu li hai travolti gli uomini ed essi diventano simili a un sogno e alla mattina sono come l'erba che appassisce zramtam shena iyu baboker ke chatzir yachalof come l'erba che al mattino fiorisce e cresce e alla sera poiché tutti i giorni sono trascorsi nella tua ira e abbiamo consumato i nostri anni come un pensiero fuggente i giorni della nostra vita tra loro sono 70 anni e per quelli più forti 80 tutta la loro parte più bella non è che pena e affanno perché la vita rapidamente viene recisa e noi siamo soffiati via 20 anni 20 anni ve'im bigvurot 80 anni Chi conosce il potere della tua ira? Come tu sei temuto, così lo è anche la tua ira. Insegnaci a tener conto dei nostri giorni, affinché possiamo portare il nostro cuore alla saggezza. Torna, O Hashem, fino a quando, abbi pietà dei tuoi serbi. Saziaci con la tua misericordia fin dal mattino, e allora noi canteremo e godremo durante tutti i nostri giorni. Rallegraci per tutto il tempo che abbiamo sofferto, tanti anni quanti ne abbiamo trascorsi nel male. Possano le tue opere essere visibili ai tuoi servi, e la tua maestà sia sopra i nostri figli. Possa la grazia del Signore, nostro Dio, essere su di noi. Consolida per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rendi stabile. Grazie infinite di Sheva. Vai, Chayamushka. Chiunque risieda al riparo dell'Altissimo, abiterà all'ombra dell'Onnipotente. Io dirò a proposito dell'Eterno, che Egli è il mio rifugio e la mia difesa, il mio Signore, e io faccio assegnamento a Lui. Non dimenticate di leggere in ebraico con me, ragazzi. E mettere il Zedaka in mezzo. Vai. Perché sarà Lui che ti salverà dal laccio del cacciatore e dalla peste devastante. Chi hui ya zilcha mi pachyakush mi deve havuot. Egli ti coprirà con la sua ala protettrice e troverà il rifugio sotto le sue ali. La sua verità costituisce uno scudo e una corazza. Pertanto, non avrai timore dello spavento notturno, né della freccia che vola di giorno. Né della pestilenza che si muove nelle tenebre, né della distruzione che colpisce anche a mezzogiorno. Ma ho felia haloh. Mi kettev yashut zohorain. Dever. Dam zfar dea kimim aroch. Dever. Vi ricordate delle piaghe? Questi in inza. Dever. Sebbene mille possono cadere al tuo fianco sinistro e diecimila alla tua destra, questa piaga non arriverà a toccarti. Tu vedrai soltanto coi tuoi occhi senza soffrirne e potrai assistere alla ricompensa per i malvagi. Siccome tu dicesti l'Eterno è il mio rifugio e hai considerato l'Altissimo quale la tua residenza, allora non ti coglierà nessun male e alla tua tenda non si avvicinerà alcuna piaga. Perché egli avrà designato i suoi angeli al tuo servizio affinché ti custodiscano ovunque tu vada. Essi ti porteranno in palmo di mano, in modo che tu non debba urtare il piede in qualche pietra. Tu potrai camminare sopra il leone e sopra l'aspide. Calpesterai in denne il giovane leone e il serpente. Dal momento che egli desidera me, io lo libererò. Io lo innalzerò perché ha riconosciuto il mio nome. Pertanto, quando mi chiamerà, io gli risponderò. Sarò con lui quando dovesse trovarsi in difficoltà. Io lo libererò e gli renderò onore. Yicraeni ve'aineu. Immo anokhi be'cara. Achalzeu v'achabdeu. Io lo satsierò con una lunga vita. Egli permetterò di vedere l'amiazione di redenzione. O rechiamim asbieu ve'ar e'u bishuati. Rachele 92 Canto con accompagnamento musicale per il giorno di shabbat. In questo giorno di riposo è bello lodare Hashem e cantare salmi al tuo nome, O Altissimo. Tov leodot l'Adonai ulezamer le shimcha il yom. Proclamare la tua bontà al mattino della redenzione e dichiarare la tua fedeltà nelle notti dell'esilio. Le hagit baboker chasbecha ve'emunatcha balelot. Con lo strumento musicale a dieci corde e con la lira con canti accompagnati all'arpa. Siccome tu, O Hashem, mi hai agliettato con le tue azioni, io canto per la gioia, osservando l'opera delle tue mani. Come sono grandi le tue gesta, O Hashem, e come sono profondi i tuoi pensieri, come le hanno prodotte. L'uomo superficiale non lo sa, e lo sciocco non si rende conto di ciò. Quando i malvagi prosperano come l'erba e tutti gli operatori di iniquità fioriscono, ciò avviene perché possono essere distrutti per sempre. Ma tu, O Hashem, rimani per sempre eccesso. Perché ecco, O Hashem, i tuoi nemici finiranno distrutti e tutti gli operatori di iniquità verranno dispersi. E chi sono i nemici di Israele, di Hashem, i nemici di Israele, sono i nemici di Hashem. Questo ce lo dice anche la Torah. Dunque, chi va contro Israele va contro Dio e chi va contro Dio verrà distrutto. Tu accrescerai il mio vigore come quello di un bufalo. Sarò unto di olio fresco. Abbiamo appena studiato l'olio di inunzione, vi ricordate? E i miei occhi vedranno la rovina di coloro che mi insidiano. Quando i malvagi si levano contro di me, le mie orecchie ascolteranno la notizia della loro fine. Umanamente parlando, diciamo che il vedere i nostri nemici distrutti, nel senso che c'è una giustizia, non nel godere del male altrui, ma nel vedere che c'è una giustizia, è qualcosa che umanamente, diciamo, richiediamo e vogliamo. Il giusto, fiorirà, sarà prolifico come la palma, diventerà grande come la palma del Limano. Essi, piantati nella casa di Hashem, fioriranno nei cortili del nostro Signore. Essi daranno frutti anche in età avanzata, saranno pieni di vigore e freschezza. E ciò per proclamare che Hashem è giusto, Egli è la mia rocca e Lui non esiste iniquità. Vai a René e poi dopo li cantiamo a questi due. Ok. Hashem regna, simileste di maestà. Hashem è il vestito e scienza viene in potenza. Così l'universo sarà stabile e non vacillerà. Stabile è il tuo trono da sempre, eterno tu sei. I fiumi fanno sentire, oh Hashem, fanno sentire i fiumi il loro strepito. I fiumi fanno sentire il loro fragore. Nass'un harot Adonai, nass'un harot colam, is'un harot duchyam. Ma più quello strepito delle onde impetuode, più che i terribili fiumi del mare, Hashem è potente nel cielo. Mi colott maim rabbim, adirim mishverayam, adirbam arom Adonai, edotecha neunume od, levetchana avva kodesh Adonai leorech yamim. Le tue terribili fiumi sono degne di fiducia alla tua casa, asserenza di santità per lunghi giorni, l'ha già detto. Voilà, sono andata avanti. Adesso cantate, togliete il muto e tutte insieme siamo adesso Shabbat al Tempio e cantiamo l'Ismor Shirlioma Shabbat. E dicevo, ho bisogno di te. Parla fuori. Ma scusatemi, a Livorno non si cantava e a Quara Rohe si diceva soltanto, si cantava soltanto le prime due righe. Ah sì? Vabbè, cercate di seguirmi allora. Nessuno di voi è in Nossach Jerusalmi? In Israele? Non avete questo Nossach? Non puoi dire, ma nelle sinagogi dove sono andata io o anche in Israele nessuno lo cantava. No. Ma se io ricordi, no. Perché del Nessach Jerusalmi si canta. Ma caddluma, seichha, Adonai, maud amkou machsibutichha, ishbar, lo yedau. Sinoi, abin, eddod, bifruch, rishaiim, kemo esze, v'yacizu, kolpo alea, v'nishamda, m'dayad, v'atam arom. Sinoi, abin, eddod, bifruch, kemo esze, v'olam, auread, v'atam, auread. ma Adesso però velo studierete cos'è la prossima A Padova e a Venezia lo fanno con melodie diverse ma fanno il canto di Shabbat Ma non è diverso da come lo canti tu nonostante a Venezia sia con melodia sefardita è diverso e a Padova lo fanno con la melodia di Beneromi ed è diversa anche quella Com'è? L'inizio è dunque aspetta Ok, 94 ragazzi 94, 95 e 96 Noi non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno che si fanno Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.